Il viaggio nel tempo che tenteremo di fare domani mi sta facendo perdere il sonno con questo fatto della sopravvivenza, ecco il problema. Ma il compito dell'eroe è questo, una parte del viaggio è la fine. Ma perché questo trip e tutto quanto andrà esattamente come deve andare? Ti amo, Tremila.